Ciao amici, sono l'americano, mi chiamo Franco. Qui in Toronto è una cosa ricente che hanno cominciato a fare e non vi preoccupate, non lo facciamo ogni giorno che mi schifasse mettere dentro questa piscina. Ora è l'ultimo giorno della piscina pubblica che l'hanno aperto ogni anno è il giorno per i cani. In Toronto le piscine sono piene di cani, dalle 4 e mezza fino alle 6 e mezza, l'11 di settembre è passato già. Usano tante piscine, vediamo dove erano le foto, c'erano le foto qui. Queste erano le foto, non vuole, facciamo un refresh e vediamo che succede. E' bello vedere tutte le cani, tutte in fila, aspettando per la festa. E' una cosa diversa, come ho detto, se era una cosa che si faceva ogni giorno non mi piacesse, ma alla fine dell'anno va bene. Che ne pensate voi? All'Italia facete qualcosa di questo genere? fammi sapere, iscritti, clicca piace amici, ci sentiamo prestissimo, ciao!